Da otto mesi aspettate delle risposte da parte dell'ATS che non sono arrivate? Sì, e se sono arrivate sono arrivate risposte unilaterali che non prendono in considerazione gli accordi fatti con il sindacato, quindi questa è l'ennesima dimostrazione di un'ATS che non funziona, che non dà risposte né ai lavoratori né purtroppo ai pazienti, la sanità è proprio allo stremo. All'origine di questo sit-in tra l'altro c'è la grave carenza di personale registrata al San Francesco di Nuoro. Al San Francesco di Nuoro stiamo assistendo a una grave carenza di personale infermieristico, non riusciamo più a garantire il minimo di livello assistenziale ai pazienti, in tutti i reparti registriamo gravi carenze, il dottor Moirano promette sempre nuovi numeri, nuove assunzioni che non arrivano mai, oggi siamo in protesta per ricordargli che non molleremo e andremo avanti. Il prossimo passo qual è? Quello dello sciopero generale? Se il dottor Moirano continua a tergiversare, a conquistare tempo, il prossimo passo sarà inevitabilmente lo sciopero generale.